Buongiorno, benvenuti alla mia lezione di fotografia analogica. Oggi ci occuperemo dello sviluppo in bacinella della carta fotografica in bianco e nero e vedremo come è possibile riuscire ad ottenere delle immagini in bianco e nero anche a casa vostra con l'utilizzo di sviluppi preparati da voi stessi e l'uso di semplici bacinelle come queste, vedete, delle bacinelle che sono riscontrabili e reperibili in un qualsiasi sito che vende materiale fotografico oppure le potrete avere di seconda mano anche da uno vostro amico fotografo che non le usa più. Le bacinelle di cui avrete bisogno sono di dimensioni leggermente superiori al formato della carta che vorrete usare. Per esempio se voi vorrete usare un formato per esempio della carta di 13x18 cm andranno bene delle bacinelle per questo formato che sono leggermente più grandi, hanno circa 5 cm almeno per ogni lato di dimensioni in più. Cosa dovrete fare? Dovrete prendere almeno tre bacinelle, alcuni consigliano anche di averne quattro perché la quarta serve per il lavaggio. Tre bacinelle, ecco vedete, le bacinelle hanno una forma particolare, cioè hanno i bordi smussati di modo che si possano facilmente versare i liquidi di nuovo nella bottiglia. Poi hanno dei rilievi, vedete questi rilievi? I rilievi sono utili per consentire alle pinze, che sono come queste, di poter afferrare meglio il foglio di carta. Vedete, la pinza di acciaio riesce meglio ad agganciare il foglio di carta, vedete? Questi sono dei fogli di carta, ecco, ma voi non metterete le mani ma utilizzerete le pinze, vedete? Si può sollevare il foglio di carta e farlo sgocciolare prima di passarlo a un'altra bacinella. Poi vi consiglio di avere sempre a portata di mano questo tipo di bottiglie che viene detto bottiglie a soffietto. la bottiglia a soffietto vi consente di poter diminuire l'altezza della bottiglia, come una fisarmonica, vedete? E non lasciare lo spazio d'aria ai liquidi, altrimenti si ossiderebbero. Gli sviluppi li potrete preparare nelle bottiglie della birra, vedete come faccio io, che sono scure, perché gli sviluppi in genere hanno dei grossi problemi di ossidazione alla luce, di fotossidazione, per cui saranno conservati al buio, in un armadio al buio e possibilmente avranno un vetro di colore ambra scuro. Per miscelare i liquidi avrete bisogno di misurini, di cilindri graduati come questo, vedete? O anche di questo tipo di recipienti che abbiano la graduazione segnata sulla superficie proprio per consentire di fare le esatte proporzioni. Infine potrete utilizzare anche questo tipo di bottiglie, ecco come ho fatto io, ovviamente etichettandolo in maniera corretta perché non dovrete sbagliarvi, non dovrete avere il pericolo di ingerire queste sostanze che sono ovviamente molto tossiche, per immagazzinare per esempio il liquido di arresto o il fissaggio per esempio. Ma andiamo per grati, esaminiamo anche la procedura standard dello sviluppo. Allora innanzitutto vi ho detto prima che avete bisogno di tre bacinelle, le tre bacinelle sono appunto la bacinella dello sviluppo per esempio questa qui e la bacinella del fissaggio posta immediatamente dopo o alla vostra destra o alla vostra sinistra ma dovrete utilizzare una convenzione che rispetterete ogni volta e infine la terza bacinella quella del fissaggio. Quindi sviluppo, arresto e fissaggio in questa successione. Non dovrete sbagliarvi ovviamente se fate il contrario non avrete il risultato sperato. Quindi la prima bacinella è quella dello sviluppo. Ovviamente opererete in camera oscura, cioè opererete in un ambiente totalmente buio dove al massimo c'è una luce che in genere è di colore rosso scuro e vi consentirà di maneggiare la carta per qualche minuto senza avere il pericolo che si impressioni. La bacinella va di questo tipo, una bacinella adatta per il 18x24 dove voi potete inserire le carte di formato inferiore, avrete bisogno di riempirla per metà più o meno. Quindi per esperienza vi posso dire che una bacinella per 18x24 accoglie tranquillamente un litro di liquido. Dopo aver versato i liquidi nelle bacinelle, quindi nella prima bacinella lo sviluppo, nella seconda l'arresto e nella terza il fissaggio, andrete a utilizzare queste pinze per inserire la carta appena impressionata nel vostro ingranditore, la inserirete nella bacinella e agiterete la bacinella, quindi mettiamo caso che questa sia la vostra carta appena uscita dall'ingranditore, verrà inserita. Potete fare o a faccia in giù o a faccia in su, l'importante è che venga immediatamente coperta dal liquido e quindi non restino parti che rimangano fuori perché verrebbero sviluppate dopo e quindi ci sarebbe un risultato non uniforme dello sviluppo. Utilizzerete queste bacinelle che ondeggerete ovviamente in maniera molto delicata evitando che fuoriesca il liquido e quindi praticamente opererete questo tipo di ondeggiamenti irregolari perché se li fate irregolari si formeranno degli sviluppi con delle onde e quindi si formeranno diciamo così delle onde particolari che non assicureranno lo sviluppo uniforme quindi la agiterete in tutte le direzioni sia in senso longitudinale che diagonale che trasversale e avrete dopo circa due minuti uno sviluppo completo. Portatelo sempre a completamento lo sviluppo e non andate mai oltre i tre minuti perché è inutile. Avrete semplicemente corso il rischio di velare la stampa cioè di formare un velo grigio per eccesso di sviluppo. Quindi lo sviluppo in genere questo è standardizzato dura circa due minuti massimo due minuti e mezzo non andate oltre i tre minuti. Se la stampa vi verrà troppo chiara o troppo scura semplicemente ne rifarete un'altra perché avrete sbagliato l'esposizione sotto l'ingranditore. Quindi c'è poco da correggere in bacinelle ma la bacinella non perdona se avete fatto un errore nella fase di esposizione sotto l'ingranditore la carta verrà o sovresposta o sottesposta e servirà poco accorciare lo sviluppo anche se effettivamente se fate uno sviluppo 30 secondi in più o 30 secondi in meno qualche risultato lo potrete correggere ma sempre nei limiti del possibile. Dopo che la carta è stata sviluppata la raccoglierete con la vostra pinza e la verserete nell'altra bacinella dell'arresto. L'arresto è fatto generalmente da acqua acidulata che può essere acido citrico, acido acetico, acido borico, acido anche acido cloridrico purché se ne usi poco circa 20 cc al litro. Come si preparano i bagni ve ne parlerò dopo. Per adesso ammettiamo che le avete già pronti secondo le ricette che vi danno le case produttrici degli sviluppi che avrete comprato secondo la loro diluizione che avrete preparato e quindi per adesso esaminiamo la successione di questi bagni. Dopo circa 10-15 secondi massimo 20 secondi che la carta è stata immersa nel bagno di arresto per fermare il processo di sviluppo la passerete nel terzo bagno che il bagno di fissaggio. Nel bagno di fissaggio che generalmente è una soluzione di iposolfito di sodio e metabisolfito di potassio avrete un'altra fase dello sviluppo che è quella della rimozione dei sali d'argento che non hanno reagito alla luce perché se questi venissero esposti alla luce annerirebbero anch'essi col tempo. Quindi deve essere tolto tutto quello che non ha reagito alla luce o che ha reagito poco. Di modo che voi otterrete finalmente la vostra stampa esattamente sviluppata. Questo è tutto. Per adesso cercate di leggere dei libri, delle opere che parlino di questa operazione in maniera più esatta di come posso fare io. Io vi posso dare soltanto uno spunto. Abbiate molta pazienza nell'apprendimento perché si tratta di cose molto complesse che non potrete facilmente gestire così la prima volta ma dovete avere molta esperienza. Un altro consiglio che vi do è quello poi di sempre di prendere la stampa appena uscita dal bagno di fissaggio che durerà circa 4-5 minuti non di più. Durante il periodo di questo fissaggio dovete sempre ondeggiare la vostra stampa nella bacinella affinché sia perfettamente fissata. Dopo aver fatto questa operazione la immergerete nella quarta bacinella o anche addirittura in un secchio che avrete tenuto opportunamente vicino al vostro tavolo di lavoro contenente acqua pura oppure acqua con un neutralizzatore ipo che appunto neutralizza e elimina gli effetti dell'iposolfito di sodio che sarebbero dannosi. Pronta poi per il lavaggio nella bacinella di lavaggio oppure nel lavandino con un sistema di riciclo di acqua per circa un 20 minuti. Se utilizzerete delle carte politenate magari la fase di lavaggio può abbreviarsi a 5 minuti. Però io vi consiglio di lavarle bene le foto e di fissarle ancora meglio perché avrete poi la brutta sorpresa che si formeranno delle macchie rose o delle righe o tutta la superficie verrà ricoperta da un velo rosato che appunto l'effetto dei sali d'argento che reagiscono alla luce e che non sono stati rimossi dal fissaggio. A sua volta il fissaggio deve essere rimosso con un lavaggio molto lungo e molto accurato e prima vi consiglio un altro prodotto che è il neutralizzatore di iposolfito che appunto riesce a eliminare completamente ogni traccia di iposolfito che sarebbe dannosa anch'essa per la durata e la vita delle vostre stampe. Alla fine voi prenderete questa stampa lavata e completamente asciugata ecco vi faccio vedere una stampa che ho fatto io ecco ammettiamo che poi abbiate fatto questa questo questo lavoro poi sempre tenendola per con la pinzetta la appenderete ad un filo con una normale molletta per un angolo eccolo qua per un angolo così facendola gocciolare in un in un recipiente ovviamente per non manchiare il pavimento e facendola gocciolare e asciugare per circa una mezz'oretta o anche di più a seconda della temperatura che avete nella stanza. Non è necessario che abbiate un forno o dell'aria calda è assolutamente inutile dovete avere pazienza dovete aspettare che si asciughi totalmente in un ambiente non polveroso perché la polvere si attacca alla gelatina e avrete un risultato ovviamente poco poco gradevole e non potrete poi togliere queste 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 granelle di polvere. Un'altra raccomandazione che vi faccio a volte se usate l'acqua calcarea sulla stampa si possono verificare delle delle macchie di calcare che vanno semplicemente tolte con un bagno alla fine di tutti i passaggi con un bagno acidulo fatto da un 5% o anche di meno di acido cloridrico in un litro d'acqua quindi veramente un misurino piccolo di acido cloridrico vi basta pochi pochi secondi e poi uscite fuori la sciacquate nuovamente e la fate asciugare non avrete più quelle macchie di calcare che affliggono le stampe se sono state sviluppate con dei liquidi ricchi di acqua dura di acqua ricca di carbonato di calcio che potrete avere nelle vostre zone che esce dai vostri rubinetti. Vi auguro di aver appreso bene queste tecniche acquistate questi materiali questi misurini queste queste bottiglie a soffietto acquistateli ecco potete già fare questo vi consiglio le bottiglie tutte da un litro oppure se usate le bottiglie di birra cercate di prendere almeno quelle più grandi di prenderne due e distribuirete un litro o poco più di sviluppo in questo tipo di bottiglie e chiudetelo con un quermetico che non lasci passare dell'aria questo è molto importante perché se avrete dell'aria che passa all'interno della bottiglia nel giro di pochi giorni avrete il bagno totalmente inservibile ossidato io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buono studio e che la vostra passione possa trovare una grande una grande soddisfazione nella vostra vita